Allora, mister, cosa mi dice di questa partita vera? E' un successo meritato, secondo me mi ha fatto un'ottima prestazione, ronato da tre bellissimi golpi. Comunque bella partita, il risultato vi penalizza un pochino secondo me. Anche secondo me, però meglio così, voglio dire che è stata combattuta fino alla fine. Anche, il 2-1 del Pietraligore ci ha messo un po' a pensare, però poi dopo finalmente all'Alcon ha chiuso la partita con un bellissimo gol. Quindi una stagione sicuramente da incorniciare, nonostante le due ultime sconfitte in campionato. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.